Si intitola Dialoghi di Educazione Civica, il progetto che vede protagonisti a Sala Consilina e volontari civili iscritti all'albo comunale e i due istituti comprensivi salesi. Il relativo protocollo d'intesa è stato firmato nei giorni scorsi presso l'Aula Consiliare del Comune, alla presenza tra gli altri del Sindaco Cavallone, del Presidente del Consiglio Maria Stabile, che ha fortemente voluto il progetto, dei rappresentanti all'Istituto Comprensivo Camera e Sala Consilina Viscighiete e dei volontari civili, destinatari dell'iniziativa i bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle medie salesi, ai quali nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 sarà dedicato una serie di incontri, definiti appunto Dialoghi, finalizzate ad ampliare la tradizionale offerta formativa scolastica attraverso l'apporto e il contributo dei volontari civili. Diversi temi previsti, dalla persona con i suoi diritti e doveri, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alle regole di comportamento verso se stessi e gli altri, ma si parlerà anche di salute, moneta, media e social network, tradizioni e storia locale. Tutto ciò grazie alla variegata esperienza e alla grande disponibilità che i volontari civili di Sala Consilina metteranno a disposizione dei più giovani in modo totalmente gratuito.